Il termine razzismo si riferisce a un'idea preconcetta e comunque scientificamente errata, che la specie umana possa essere suddivisibile in razze biologicamente distinte, con la conseguente convinzione che sia possibile l'esistenza di una razza superiore o inferiore a un'altra. Vuole che le parlo del razzismo? Sì che ho detto razzismo, ti sembra strano? No, nel senso che è una cosa un po' vecchia, un po' antica. Io mi ricordo, che ne so, quello che diceva mio nonno quando andavamo a pranzo da lui. Lui ne parlava di questa cosa, però ero piccola, quindi non mi ricordo bene quello che diceva. C'è un ricordo un po' sfocato, oppure quello che, che ne so, che potevo leggere sui libri di storia, le elementari. Forse mi fa un po' strano pensare al fatto che, che tempo fa, diversità culturali, linguistiche, sessuali o religiose, possano essere state un motivo di discriminazione, questo sì. Però faccio fatica a pensare che questa cosa sia potuta accadere realmente. Quando ci penso dico è possibile che una cosa del genere sia potuta accadere, mi fa strano. Sei mai stata vittima di razzismo? No. Sei razzista? Ma no, no, no. Se facessi un commento razzista, cosa mi diresti? Che hai sbagliato a epoca. Che hai sbagliato a epoca. Che hai sbagliato a epoca.